Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì. Iniziamo come sempre dall'Europa, ancora alta pressione alle medie e alte latitudini, tra l'altro anche con temperature molto piacevoli, invece condizioni di maltempo sul Mediterraneo centrale, Italia compresa. E quindi vediamo cosa accadrà sul nostro paese, tante nuvole e soprattutto al centro nord, dove prevediamo anche piogge diffuse e anche qualche temporale, quindi attenzione, precipitazioni localmente di moderato forte intensità, ma temperature che quantomeno al centro sud rimangono per il momento molto miti. Entriamo più nel dettaglio, cominciamo dal nord Italia, dove vi dicevo la giornata sarà particolarmente grigia, piogge temporali e piogge che insisteranno non solo per tutto il giorno, ma localmente potrebbero essere anche di moderato forte intensità, temperature quindi anche al di sotto della media. Anche nell'Italia centrale dovremo fare conti con molta instabilità, qua però con anche qualche locale schiarita, però come vedete alta probabilità di pioggia, specie in Toscana, Lazio, Umbria e alte marche. Infine un'occhiata al sud Italia, dove qua il tempo ancora per il momento tiene, non mancherà qualche nuvola di passaggio, in Sardegna qualche goccia di pioggia, ma temperature molto molto miti. Con questo è tutto, per dettagli come sempre vi aspettiamo su trebimeteo.com